Ciao a tutti, sono Cristina Vincerelli, laureati scienze motori e collaboro con Corebo per la produzione di video articoli erenti al Pilates. Oggi ho cambiato scena, mi trovo nello studio dove lavoro, chi adasti, in studio Pilates. Come vedete lo studio è vuoto perché ancora le norme ci impongono la stretta chiusura, ma siamo ben speranzose sia io che il mio collega di poter riaprire quanto prima e approfitto quindi dello studio e dell'ambiente per uscire un po' dal seminato rispetto a quello che vi ho proposto fino ad oggi e a quello che con Corebo abbiamo deciso di proporvi fino ad oggi, in quanto abbiamo sicuramente trattato tematiche interessanti riguardanti Pilates e per esattezza abbiamo trattato degli esercizi che però potevano essere svolti su tappetino e quindi comodamente a casa vostra. È ovvio che quello che vedete alle mie spalle è il macchinario cardine del Pilates che si chiama Reformer, non è un strumento che tutti potrete avere nei vostri alloggi per una serie di buoni motivi, primo tra tutti la sua grandezza e le sue dimensioni, ma avevo comunque piacere di mostrarvi degli esercizi che non fanno proprio parte del classico repertorio del Reformer, ma dei quali possiamo prendere spunto perché abbineremo questo lavoro in posizione orto statica, quindi in posizione in piedi, che possiamo fare con Reformer, abbineremo come vi dicevo degli esercizi che invece si possono tranquillamente condurre da casa, quindi parleremo di affondo, parleremo di affondo statico più trazioni e altri movimenti che vedrete, quindi variamo come vi dicevo lo scenario e ci accomodiamo subito al Reformer. Partiamo da un primo lavoro. Allora, innanzitutto ci posizioniamo in piedi e quindi mi posiziono in piedi e vado ad afferrare la ciglia più vicina a me. Partirò subito, dimostrerò subito una prima sequenza partendo dall'affondo. Nell'affondo dovremo cercare di sentire che il peso del nostro corpo è perfettamente distribuito tra l'arto anteriore e posteriore. L'arto anteriore è opposto al braccio con cui ho ferrato il cavo. Il braccio andrà a fare una trazione. L'arto posteriore, come vedete, non è in appoggio, altrimenti questo mi farebbe sbilanciare l'indietro, ma il mio baricentro deve essere perfettamente fra l'arto sinistro e l'arto destro e il mio peso deve essere bilanciato esattamente fra l'avampiede e il ventropiede. Il tallone destro sarà sollevato. Quindi iniziamo a fare un primo lavoro di trazione in un affondo statico. Il lavoro di trazione include che il mio braccio destro è esattamente in flessione, porti il mio conto posteriormente evitando la posizione della spalla e, come dicevo, mantenendo in maniera equilibrata e bilanciata il peso sui miei bel atti. A questo movimento di trazione potremmo aggiungere quindi un affondo in alto. Non rimango più statica, ma ogni volta che effetto la mia trazione, effetto anche un piegamento sugli altri inferiori. Questa trazione potrà essere anche eseguita con una rotazione del torace. Posso anche decidere di liberare il mio arto opposto, allungarlo. Non ho con me un pesettino, ma mi ha proposto portare a avere anche un piccolo peso a livello della mano sinistra. Posso anche decidere, perché no, di lavorare in un atteggiamento monopotamico e quindi rimanere in appoggio soltanto sul mio piede sinistro, mentre continuo ad effettuare la mia trazione. Bene, queste sono state una serie di combinazioni possibili che vi ho mostrato. Ciò non toglie che ci sono centinaia di possibilità. Ripeto, avevo piacere di mostrarvi un qualcosa che non fosse strettamente Pilates, perché spesso e volentieri si pensa che il Pilates sia una disciplina meditativa, di allungamento, ma in realtà non è questo. Nel Pilates si lavora attivando tantissimo il corpo, attivando tutte le sue strutture, prendendo consapevolezza e coscienza di cosa deve lavorare, di cosa deve essere attivato ma non rilassato. Quindi in realtà una lezione di Pilates è una lezione molto stimolante ed intensa, ovviamente stando anche al livello della clientela. Però avete già assaggiato qualcosa che non necessariamente si svolge, per esempio, da supini o da paloni. Quindi ci sono anche molti esercizi che possono essere condotti stando in piedi, andando anche a toccare dei punti che non sono strettamente del Pilates, come per esempio la posizione di cui parlavo autostatica, stando in piedi nell'affondo o in un affondo dinamico. Erano solo alcuni spunti, spero di aver fatto cosa gradita. Come ogni volta mi raccomando non dimenticate di seguirci nel sito che è www.corebosport.com e sarà nostra premura tenervi aggiornati. Ciao a tutti!